Per quale ragione lui studia? Lui deve sapere prima dello studio. Lo studio è un'azione che tu attiri a luce leparatrice. Per quale ragione tu attiri questa luce? Per quale ragione tu studi? Tu devi sapere. Non è che ti hanno detto così, devi studiare cinque ore al giorno, consumare tutti gli altri e così rifiuti di fare. No, tu devi sapere. E anche durante lo studio. Ti ho afferciato per quale ragione che non molla durante lo studio questa regola, questo principio fondamentale che l'uomo entra a saggiatà della Kabbalah. Allora non sa verso cosa lui sta andando. Lui deve sapere verso cosa lui sta andando, sì. Però non come tu dici, io devo prima arrivare l'Ishma e dopo lo saprò cosa io vado a fare. E dopo saprò come studiare per arrivare. No, no, no. Non così. C'è quel fatto, c'è il fatto del Reshimo che si trovano in te, che tu annelli, brami, adesso al di sopra della tua natura. Che questo è il Reshimo che arriva dalla luce ritornante, che c'era prima della frantumazione, della rottura ancora. E attraverso questa rottura, sono cadute queste cintille di luce ritornante dentro la montata che luceva rotta. e allora tu puoi utilizzare queste cintille che sono cadute, che tu vuoi indirizzare se stessa a questo. che tu vuoi arrivare all'Ishma. Come? Non lo sai. Cosa vuoi dire? Non lo sai cosa è questo l'Ishma? Non lo sai. Sono il Reshimo rotto. Però qualcosa che è al di sopra della tua natura. Qualcosa? Qualcun con. Cosa è la tua natura? Tu puoi vedere la tua vita, qual è la tua natura. non è ad azione. Se tutta la tua natura è la volontà di cerrare tra la tua natura. Danni tu vuoi. E se appartiene alla seconda natura, al desiderio di ad azione, nel mondo opposto guardato, visto. A questo dobbiamo arrivare, sì.